Ciao a tutti, l'anno scorso mi era venuto in mente del braccialetto di Sant'Antonio quando ormai non si poteva più fare. Quest'anno una signora, ringraziando il cielo, me l'ha ricordato e a sto punto lo faccio magari un po' prima, anziché così almeno non me lo dimentico dopo, che sapete come sono fatta. Allora, è tipo, diciamo, il famoso braccialetto rosso con i sette nodi. Quindi, questo invece sono tredici nodi, quindi si inizia quando? Il primo, siamo a maggio, il primo di giugno e si arriva fino al tredici di giugno. Allora, qui c'è chi dice che bisogna iniziare alle gare andando in senso del tempo, quindi tendenzialmente per noi si va da sinistra verso destra. C'è anche da dire che, ad esempio, il braccialetto rosso si fa di solito dalla destra verso la sinistra. Perché? Perché è, come dire, dalla via di destra, quindi dalla via del bene, a togliere la via del male. Quindi non è andare verso la via del male, ma, diciamo, comanda la mano del bene. Bene. Allora, che è iniziato di qui? Che è iniziato di qua? In questo caso non c'è alcun problema. Quello che conta è la tredicina. Di solito si fanno le novene, in questo caso è una tredicina. A cosa serve? Allora, può servire per chiedere una grazia, che sia, tendenzialmente si fa più per questioni di cuore, però si può fare anche per altre cose che uno ha bisogno, uno vuole chiedere. Come si procede? Allora, si inizia il primo di giugno, si prepara, allora, i santi, di solito è gradita la tovaglietta bianca. Se volete mettete la candela, se volete mettete l'immagine del santo, ovviamente creare un altarino è sempre cosa ben gradita. Adesso io ho girato tutto verso di voi, voi terrete tutto, cioè, dovrebbe essere tutto girato verso di me adesso. Io adesso ho messo di lì tanto così, vedete, il santo, eccetera. Allora, come si procede? Il primo giorno si fanno i famosi tre segni della croce, poi si dicono tre Padre Nostro, tre Ave Maria, tre Golori al Padre, e si fa, cioè si chiede la grazia a Sant'Antonio, quindi con devozione ovviamente, si chiede quello che vogliamo, non so, oh grandissimo Sant'Antonio, ti prego di, non so, intercedere per me, presso Dio, scegliete voi, dovete proprio voi parlare col santo, quindi. E quando avete chiesto, non so, fa che la mia unione con Mario vada benissimo, fa che, non so, la mamma stia bene, e, che non so, guarisca, cioè lì, quello che dovete chiedere sarà vostro, ovviamente, a quel punto lì farete, quando avete proprio chiesto tutto bene, farete il primo nodo. Andrete a fare un nodo. Lasciate un po' di spazio qua, che poi vi servirà per legare, e quindi andate a fare il primo nodo. Lasciate tutto lì, la candelina che si consuma, se la usate. Quando si va dai santi, si chiede aiuto ai santi, una candela è sempre ben gradita. Lì potete scegliere se usare una candela piccola, o mettere la solita candela grande. Se usate la candela grande, andatela poi a spegnere con uno spegnicandela. Non fate così, che equivale a fare così, quindi, cioè, o la spegnete con le mani, o con lo spegnicandela. No, perché ho visto uno che si è raccomandato, bellissimo questo, in un video, di non soffiare sulle candele, e poi la spegnare con l'aria così. È la stessa identica cosa. Allora, quindi, soluzione 1, tante 13 piccole candeline, soluzione 2, una candela, che pian piano, cioè, finite le vostre ore, e poi l'ultimo giorno, ovviamente, la fate consumare del tutto. I resti, tendenzialmente, in queste qua, non ne rimangono. In queste qua, sì, cosa state facendo? State chiedendo di attirare qualcosa, di solito, quando uno vuole una grazia, che lì, se dovete chiedere una grazia, per esempio, qualcuno malato, che volete che guarisca, attirate la guarigione. Quindi, chiedete di attirare guarigione. Cioè, è meglio chiedere di attirare guarigione, che non di mandare via la malattia. Ok, dovrei aver detto tutto, quindi, dopodiché, fatto il primo nodo, vi fate di nuovo i tre segni della croce, e lasciate tutto lì. Questo qua, quindi, che sia senza foto di nessuno, che sia senza candelina, almeno, la tovaglietta bianca, ci vuole. Vabbè, il filo rosso, per forza. Ah, il filo rosso, io adesso ce l'ho in raso, perché ormai eri saputo che ce l'hanno chilometri. Va benissimo un filo di lana, va benissimo anche i fili di cotone, tipo quelli da ricamo, per dire, un po' spessi. e, comunque, materiali naturali. Quindi, il secondo giorno, cosa fate? Arrivate. Sì, guardavo se avevo fatto partire la... La... come si chiama? La... Ho il video, via. Mi è sorto al dubbio che non avevo fatto partire. Ok. Sì, sono pericolosissima. Il secondo giorno, ritornate lì, rifatte i tre segni della croce, i tre Padre Nostro, le tre Ave Maria, i tre Golori al Padre, chiedete di nuovo aiuto al Santo. Allora, c'è chi dice che si può chiedere 13, chiamiamole desideri. Diciamo che è più potente se noi lo facciamo per uno, per 13 volte. Quindi, anche lì, a voi la scelta. Secondo giorno, faremo di nuovo, comunque, il secondo nodo. Adesso io non ve li sto a fare tutti quanti, comunque, e così via, fino al tredicesimo giorno. Il tredicesimo giorno, potete scegliere se legarvelo al polso, oppure, potete scegliere se, diciamo, legarlo su se stesso, cosa vuol dire? Chiuderlo, e diciamo, tenervi questa, chiamiamola coroncina, che si è andata a formare, di 13 nodini, ve lo potete portare in borsetta, ve lo portate dietro insieme, deve stare con voi, ovviamente. Il giorno che avrete ricevuto, diciamo, la grazia, perché infatti è per quello che di solito si fa 13 volte per la stessa cosa, diciamo, ecco. Poi appunto ci sono, come dire, in base magari alle regioni, in base alle tradizioni, in base a usi e costumi, dal nord al sud, l'est al ovest, vuoi o non vuoi, talvolta appunto c'è chi dice, sono 13 desideri. Lì, a voi la scelta, quindi, cioè, non dipende, perché proprio cambia da regione, queste qua sono quelle cose tradizionali, che cambiano spesso da regione a regione. Comunque sia, dopodiché richiedete la... No, io eravamo arrivati a chiudete il braccialetto, lì potete, se volete fare il braccialetto, chi è capace, potete fare anche quel metodo che si chiude di qui, poi si chiude di qua, e praticamente rimane con lo scorsoio che, diciamo, ve lo potete mettere e togliere, non è come il braccialetto antimalocchio che bisogna attendere che si toglie da solo, questo qui ve lo potete portare di qui con voi, e garlo attaccato alla vostra, cioè, deve essere il più vicino a voi possibile, ovviamente, quindi, per esempio, per le donne in borsetta è ottimo, per gli uomini no, perché non usano la borsetta tendenzialmente. Bon, direi che vi ho detto tutto, ah, i famosi, diciamo, i resti delle candela, come vi ho detto, è per attirare, quindi teneteveli in un bambinissimo, in un vaso vicino a casa, cioè, quindi non è un problema, cioè, non portateli distante, perché state chiedendo qualcosa che vi deve arrivare, quindi, quando qualcosa volete che arrivi a voi, fatelo, cioè, mettete i resti vicino a casa, quando è qualcosa che volete togliere da voi, si portano lontani da casa. Adesso, esempio, se uno avesse, io chiedo, vi dico, chiedete che venga guarita, la tirate guarigione, se per caso fosse per una malattia, e se ovviamente chiedete di mandarvi alla malattia, i resti a quel punto vanno istante da casa. Credo di avervi detto tutto, sì, anche perché è semplicissima sta cosa, quindi, ah, sì, quando si inizia, ve l'ho detto, si inizia il primo di giugno, e si finisce il 13 di giugno. Ok, penso proprio che vi saluto, sì, non vedo l'ora di levarmi sti occhiali, devo attendere almeno fino al 28, che mi fanno la visita, e mi diranno se posso toglierli o meno. Sino, perché l'altro giorno, uno mi ha chiesto, ma cosa c'entra gli occhiali? Non c'entrano con i riti, è un problema di Carlotta. Ok, ragazzi, bacio a tutti, ciao!